Easy Ok siamo in stream Ero risale da presa A quanto pare si riscontraendo qualche problemi Launcher Rapid Games fa affidamento su una connessione internaziativa per rendere disponibili in Parabit Google Telegram si salta l'accesso e riparo Un cazzo di installazione in corso Ma è vero c'è l'addermamento L'addermamento Che palle E' veloce L'addermamento Lolo Guarda Che non c'è dai molti misi adornamenti e poi non ciò che mi sento intanto c'è pure un numero del mio film online quindi aspettate che mi scrivo oh io ho raggiunto tanto mia mamma è uscita e sta via fino alle 11 quindi io gioco ora mi gioco eh io ho giocato fino al ma aspetta ma sei già in lockdown eh no mi si sta facendo aggiornamento io tipo non lo so 3 minuti sono online cioè 5 ma non lo so ok io mi sono verificato in un tempo qua in un torneo sai quello che ti fa un po' ehm un singolo ehm mi hanno dato tipo sei premi ehm che sono solamente degli spray di un muro però cioè hai fatto un ottimo conteggio e mi hanno mi hanno mandato questo torneo che si chiama divisina aperta che è sempre singolo che è sempre singolo e devi fare nel venti partite 5 punti ma ha completato 2 moltissimo mi sono classificato in quest'ora sono 5 punti e mi mancano ancora 15 partite ne devo fare ci ho fatto 3 punti in una partita e 2 in un'altra poi se non ho fatto punti da ok si però allora appena rigioci dimmi allora dimmi appena giovi ehm si mi stai giocando però hai 2 minuti per 5 minuti dovevo andare a mangiare ah ok tanto io sto sempre qua ladrò ok mi vai a mangiare ed ho fatto qua ho stream anche te stream anche te nella inizia almeno ora spanno il tuo canale di voi vai test ok test ok 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 si scrive intanto tre persone in là quindi spero si vado ad iscrivere cioè no oh e che cazzo hai cunturna? oh cunturna cunturna di faccio una, una, blu no cunturna di faccio cu, bloccante qui perchè non ho chiesto il fortnite tracker dio bastardo ha detto bene vero? bloccante prima dio bastardo dove sei? eh, per favore non ci credo lo devo andare a ricercare no aspettate un attimo la cosa ricerca il fortnite perchè qua? ah ma sono un figlio di puttana bravo beh direi di si la cazzo è però un grandissimo figlio di puttana no comunque la panteria è troppo più ma non stico il cazzo è troppo più oh si chiude subito il blu ma cazzo guarda che ora è il blu ma tu non so se provi a sparare con con l'aeree per evitare il fortnite fa 40 fa 44 il corpo se tu vai se tu spari con l'aeree non ti vanno dritti e lo so con quello devi stare fermo a posto si chiama da panteria oh andai picchione no 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 non è nascondi si no perchè mi ha detto mi ha detto mi ha detto nascondi urla se tu non vai nel negozio se tu vai nel negozio c'è un cosa da regalare cosa un cosa da regalare delle arti come si chiamano non comprendo delle arti a formare con il cuore cioè direi di non si a formare con il cuore con la zero di bar è riccato mi ha preso c'è in camera se le non mi dà no che figli puttani non te li regalo io no te lo regalo io no no nel senso di riccati cioè se lui non me la messe lui mi ha preso cioè lui stava finita l'ha visto e se l'ha regalato la sua perchè tu qualcosa non lo puoi prendere nel suo account eh lo so te lo regalo io te lo regalo io amore ma no ma io te lo voglio fare il passo di studio sto dicendo così te lo regalavo io io te lo regalavo io non lo regalavo ma invece quel figlio di puttana di riccardo te lo ho fatto a lui si prima ziamo eh il nero oppure l'ardo no l'amo no che grandissimo coglione torna a fare esplodere i bambini però perchè io non te lo posso regalare io te lo posso regalare ma quando non ti regalavo eh quindi posso regalartelo a te ah te lo regalavo ah te lo regalo però nessuno che me lo ha regalando non ti sono figli di puttana che bravo Riccardo no ho preso un coltello e riccardo mi alzito la pelu no me ne ho mai cazzo dicevo riccardo mi alzito la pelu la pelu ma si senti? capoo perchè si senti? dicevo 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 E' uscito i pelli del cazzo Oh ma si sente ancora Ma perché devo andare in me Grazie Grazie Ora ti senti Quindi Vedi un po' che divina Quanto cazzo ci mette A A A 59% L'abbia come un po' fa Ma come sono fatte le anni Le anni Le anni E' un po' che lo riguarda E' un po' che lo riguarda E' un po' che lo sciolta più Davvero? Ma non la sciolta in noi Manco quello in legno? No E quanti i conti gli devi dare? Due Ma c'è un po' di canna Che merda però E' un po' di canna Non è vero, ma non è vero, eccetera ero, fino a parte, senza che stai L'evolta, per le mie che avveno E' un'altra ragazza Un'altra ragazza Quando... quando c'è un venico è stato scelto tu e io ho provato a vittare in quattro, credo in quattro. Questo è stato bellissimo. O giuro che se al capitano rinerfano qualcosa altro che era inutile vado a giocare ad Apex Legends e non tocco più forte. E' bellissimo, non puoi capire, ho fatto 12 bombe subito. Questo al lato bombe, 12 bombe. Sì, ma non mi scriverò perché mi dici... Eh, no, no, mi attento perché la cassetta non è vero. Allora, tu devi andare, devi intanto scaricarti Origins. Non so quello, però... No, aspetta, aspetta, devo trovare la cassetta. Mi dici, sono bipolare? Un po', non è scritto. Scampioncini. Ci puoi non ho peso, io vado... Non ho peso? Non ho peso? Io sono tutto grande che ho peso, te... No, non ho peso. Io sono tutto grande che ho peso, te... No. 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 le bombi eh voglio vedere il pacchetto ranger dell'amore bella tutti i frianze benvenuti in un nuovo video ci troviamo su fortnite prima di iniziare questo video vi ricordo è sul canale attivo un contest di 10.000 V-Bucks gratis trovate il video qua sotto in descrizione perciò al termine di questo video aprite la descrizione e cliccate sul video e vedete come vincere questi 10.000 V-Bucks gratis vi spoilerò già una cosa perché per i conti allora comunque un po' straordinario con questi tre nuovi stili io già ve li avevo anticipati abbiamo visto la Mimedia che riceviamo gratuitamente basta inserire all'interno dello shop un codice creatore io ovviamente vi consiglio il mio che è il rasco latino basso mg quello di prima questa Mimedia qui di San Valentino poi c'è stato regalato questo deltaplano qui a me me l'hanno regalato in pratica lo trovate nel negozio oggetti al costo di 0 euro e lo dovete 0 V-Bucks scusate lo dovete regalare quindi questo è un deltaplano che lo potete ottenere solo se qualcuno ve lo regala a me un ragazzo il live me l'ha regalato io a mia volta l'ho regalato un altro ragazzo perciò abbiamo visto tantissime cose una cosa importante che è stata introdotta questa nuova funzione infatti al completamento delle 13 sfide di queste sfide a tempo straordinario avremo la possibilità cioè otterremo al 100% il pass battaglia della season 8 in modo totalmente gratuito ora vi ho fatto un piccolo recap di quello che è stato questa patch 7.40 ma moltimamente gratuito otterremo al 100% di questa nuova funzione infatti al completamento delle 13 sfide di queste sfide a tempo straordinario avremo la possibilità cioè otterremo al 100% il pass battaglia della season 8 in modo totalmente gratuito ora vi ho fatto un piccolo recap di quello che è stato questa patch 7.40 ma moltissimi di voi sono un po' di questo ottenere solo se qualcuno ve lo regala a me un ragazzo il live me l'ha regalato io a mia volta l'ho regalato ad un altro ragazzo perciò abbiamo visto tantissime cose una cosa importante che è stata introdotta questa nuova funzione infatti al completamento delle 13 sfide di queste sfide a tempo straordinario avremo la possibilità cioè otterremo al 100% il pass battaglia della season 8 in modo totalmente gratuito ora vi ho fatto un piccolo recap di quello che è stato questa patch 7.40 lo voglio cioè che fai di che dice di no al pass battaglia gratis che fa la peccata ma ci vedrò un attimo la mia confidione per qualcuna alcune persone mi hanno chiesto i dpi allora dpi io uso esamete 1500 dpi la cena porco diavoli morti penne all'arrabbiata va bene però sta in là di un'unione allora va bene fuori e ma che direi che è maniamo stevenna l'arrabbiata portogliosi sono agroviate picchiano un botto ok 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 Sì. Portnett si sta dando una mossa perchè è entrato Apex. Alla non vuole perdere la battaglia per il gioco, no? Alla sta mettendo tutte queste cose che potrebbero far finire i suoi giocatori. Alla non vuole perdere la battaglia per il gioco, no? Alla non vuole perdere la battaglia per il gioco. Torna Merda Torna Merda a 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 porco oh porco diavolo a guarda il messaggio che cazzo merda anche a mi hanno invitato in quel torneo lo è tipo vabbè ora sto in una partita non so come si chiama non so in quel torneo va bene come ti permetti scusa dire solo dimmelo dimmi non vuoi che te lo ciò tu sto scopando figa che puttani in volo oh non sono un hacker mi ha appena ucciso uno in volo da 299 metri e si chiama non sono un hacker secondo voi è un hacker ma ma solo io penso che la diando su intamore sia un agnosco solo io penso che la diando su intamore sia un agnosco te lo metto nel culo no no te lo metto nel culo il cazzo san valentino siamo innamorati porco dio ora ti dico come si chiama il torneo amore no dato che sono stramorto dio porco ma però come si fa l'altro perfetto tornando in lobby buongiorno hai sviluppato un nuovo torneo ottimo risultato in serie mi piace a me scelgo l'obbio hai finito con le qualità di piacere per il mio sogno è affinato aspetta mi piace a me scelgo l'obbio mi piace a me scelgo l'obbio e non c'è ma lo scelgo l'obbio è tutto Si ragazzi, se fai guai 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 guai! Ecco tu? No! Ma te non c'è niente? Mettiti a bagnole e san facendo l'applicazione! Guarda immagino quanto c'è avuto! Aspetta! Lolo, porco Dio! Non è vincita se urli! In mezzo a te dove sei vestito! Ah, io sono gravido! Basta! Ti ricordi, io sono gravido! Quindi tra due giorni poi con io le contrazioni al culo ti rende! Vedi poi che fai come Flavia! Vedi poi come fai... Vedi poi che fai come Flavia! Vedi poi che fai come Flavia! In mezzo a più! Fai come fai come... No! È un grandissimo coglione che si fa tutte le ragazze di Rimini! Sì, perché lui vive a Rimini Il grandissimo uricchione Uricchione Oh ma sta a trovare solo tanti Signo povero Hai trovato il redeploy? Bravo uricchione Oh ma una sua Ah, come la vuole Dai c'è, non mi devi sfruttare Oh, ti sparo l'ano Oh, giuro che ti sparo l'ano e poi mi ti faccio giù Oh, ti ho bastardo Ti faccio trittare Più un gravido Cazzo di cavalla al quinto mese Guarda, immagino quanto ci avete Ora è inutile prendere la deagle Fa cagare la deagle Non la prendo Ho ritratito e la prendo comunque Senti eh Non mi, non mi devi rinoppera Sei coglioni Perché se no Qua, qua gira male eh Qua gira come il fran Sì Il cazzo di africano di Riccardo Carvalho Non mi regala il cazzo di un eltaplano? Giuro che lo metto incinta e gli faccio diventare La faccia più doppia di quella di tua madre Dove avermi succeduto il cazzo di un ultimo E poi devi spugare il mio pochino La stiamo porca rio Non, 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 non Ma si, oltare così Lando? Perché tu mi lascia male? Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non ma farà e o a a a a a A presto! non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.